Inizia Siamo in live? Ma che arena pre? Ah ma no, una arena No Bello ciclo il croco Quindi che famo? E' il duo normale Ecco, fa live stream di blenky vediamo se mi se sente E' il duo normale Eeeeee Leva leva che sennò si risente tipo 40 volte E niente Come si vede? Bene? Gigi Che ti dà 1080p? Sì sì 1080p è emila 1080p è emila Sì Sto streamando in full hd 60fps E' il massimo che si può avere da youtube Cioè in realtà no Cioè poi stream Esiste pure il 4k però Eee Pack bites Che ci sta? Ma ci sta inossuna? Mamma mamma Dalla Andiamo non ho fatto il tuo passaggio Gesù, Gesù andiamo qua che ci sono mandato no no sono altissimo te l'ho detto andare là no sei altissimo c'è un bop di gente ce lo so guarda come muoio guarda come come fanno da grattacielo ti chiedo scusa ho detto non lo fanno non lo fanno sparati il bm questo senso c'è un tre colpi per te flop per loco davanti è stanno qua stanno qua stanno qua stanno qua c'è l'amico l'amico da est eccolo 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 pisa pisa non ho i materiali eh uccidi questo c'ha il pompa questo eh eh non ho i materiali eh devi uccidere l'amico c'hava tutto l'amico c'ha il pompa che ne vede pompa cazzo e non posso bello tranquillo no mi piace fai dare eh lo so pure a me piace un sacco però la prima subito non è così cattivo mi piace inizia quel botto da c'è una armata è ho spott aliens hai stra просто hai hai un b Jones ci new Hell fu chi Che bello Chi c'è un live? Nessuno? I cazzo di nessuno Quanti soldi Voglio una tipa che valla reggaeton Ci sono tuta black tuta black Io non ho abbastanza retto di essere indipendente Signorità perché non rispondono Ci sono tuta black tuta D'anniamo? Aspetta, vai Non ho forse commercio O brughiare Ma brughiare è brughiare Ma perché c'è il pingio così alto? Porco Guarda 170 di ping Io vengo 30 In questo periodo sto pingando sempre alto Cioè prima pingavo 17 E stavo tipo Ottobre, novembre pingavo 17 E poi pingo sempre Eh ma perché sto strimmata Oh no No Io toglie기는 Ma io Centro nei bit Ah no Sonoη江 Guardalo Ma ricorda Cassino Entra Smg Mi che Sd Covid B5 Sd Fa Wa Ma 它 Ma 1 l'ho visto 1 1 andato lassù sotto da me casa tutto sale è un po fottuta lo dico l'amico 120 the pink che io sono assi stronti ti ha questo il ping che ti chiede di gesù no basta